Il futuro della sanità teramana e di quella dell'area vasta del Gran Sasso saranno discussi all'interno di un consiglio comunale straordinario congiunto fra Teramo e L'Aquila, da tenersi a Palazzo dell'Emiciclo, nel capoluogo di regione, alla presenza anche del ministro della Salute Speranza. Questa è la richiesta del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, già accettata dal collega ad oltre Gran Sasso, Pierluigi Biondi. Dopo lo stop in Commissione Sanità Comunale al progetto di finanza proposto dalla Pizzarotti di Parma, la partita per il nuovo ospedale di Teramo si è riaperta. Per D'Alberto però non c'è alternativa ad una localizzazione nel territorio comunale del capoluogo di un presidio di secondo livello. Il sindaco invita anche i medici a dire la loro sulla funzionalità del nuovo presidio sanitario. Io credo che la decisione, in questo caso politica, a tutti i livelli non possa che prescindere da una presa di posizione chiara, chiamiamolo suggerimento, chiamiamola indicazione, chiamiamola proposta argomentata, sempre finalizzata nel miglioramento dell'offerta sanitaria, da parte dei medici, del personale medico, di tutto il personale sanitario. Allargherei perché il tema è questo, posizione dei medici e posizione tecnica. Dobbiamo togliere dal dibattito proposte che non sono sostenibili. Rispetto alla programmazione sanitaria regionale, il primo cittadino teramano punta a costruire un asse con l'Aquila per bilanciare quelle che a suo giudizio sono state scelte squilibrate a favore dell'area metropolitana Chieti-Pescara. C'è un'area, un asse, teratino pescarese, che nel corso di questi anni, per scelte politiche che io non ho condiviso e non condiviso, non solo sulla sanità ma su anche tante altre questioni, è stata decisamente avvantaggiata, anche forse per responsabilità politiche da parte dei referenti teramani e aquilani. Oggi abbiamo la necessità di fare un asse diverso, un asse che consenta di riequilibrare nella geografia politica istituzionale, soprattutto in tema sanitario e quando si parla in questo caso di diritto alla salute, quelle che sono le esigenze dei nostri territori.